Liverpool-Sparta-Praga termina 6-1. Liverpool vince contro lo Sparta in questa partita di oggi, 14 marzo 2024, di Europa League. 6 gol, qualcosa di epico e straordinario. Chi segna che siete loro? In l'ordine. La Rovin Nunez nel primo tempo, Bobby Clark sempre nel primo tempo, Mohamed Salah nel primo tempo. Poi abbiamo due gol che fa Codi Gakpo nel primo tempo e uno nel secondo, ed infine l'ultimo di Dominic Sobslay. Per quanto riguarda lo Sparta-Praga, l'unico gol arriva grazie a Berico Birmancevic, che la mette dentro. Le statistiche sono pazzesche. Lo Sparta-Praga fa un possesso di palla veramente poco, poco, pochissimo elevato. Pochissimi passaggi, una precisione di passaggi molto, molto inferiore, invece, il possesso di palla per il Liverpool. Come i passaggi, la precisione di passaggi sono veramente elevatissime. Insomma, il Liverpool gioca divinamente. Anche arrivo a statistiche, infatti, sono ottime statistiche. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Iscrivetevi al canale e alla radio italiana commentare. Ciao a tutti.